Vanno avanti i lavori e procedure per il rientro a Sulmona, delle aspiranti ragioniere e geometri, ma nel sopralluogo congiunto di questa mattina, sulla nuova sede alternativa dell'ex Convento di Sant'Antonio, è stato il dirigente scolastico Massimo Di Paolo a presentare alcune osservazioni assieme ai responsabili per la sicurezza del polo fermi. Nulla che non si possa risolvere adeguare, per intenderci, ma il preside ha voluto dire la sua per rappresentare tutte le criticità riscontrate e a divenire un rientro a Sulmona, ma in assoluta serenità. Siamo contenti del lavoro che si sta facendo, certo è che la cosa prevede ancora una disamina attenta per quanto riguarda le normative di sicurezza antincendio. Noi aspettiamo di avere la documentazione completa dei vigili del fuoco, interviene Di Paolo, riferendosi alla scia antincendio che dovrà essere rilasciata al termine dei lavori. Come pure il preside non manca di sottolineare il fatto che la scuola ha contribuito ad adattare gli ambienti alla popolazione scolastica, anche se non sono gli ambienti di Pratola per quanto riguarda la comodità e la giatezza. Il riferimento questa volta alle palestre ha fatto che molto probabilmente si dovrà bussare alla porta delle strutture sportive limitrofe. La preoccupazione di Di Paolo riguarda però l'eventuale auspicato incremento delle iscrizioni perché tutti, lui compreso, tengono al rilancio del Denino Morandi. Se le uscite dei ragazzi diplomati sono compensate con le iscrizioni va bene, altrimenti non c'è posto, fa notare, precisando ancora che da sovralluogo è venuto fuori, che il via libera al trasloco arriverà quando tutte le autorizzazioni saranno messe nero su bianco. Le osservazioni del dirigente scolastico non sembrano spaventare l'amministratore della Sant'Antonio SRL, Walter Tirimacco, secondo il quale la scia antincendio viene sempre concessa al termine dei lavori, come pure la ditta ha previsto un ulteriore spazio per accogliere gli studenti, qualora il numero delle iscrizioni superi il numero degli alunni iscritti alle attuali classi quinte. A sovralluogo di questa mattina sono intervenuti anche il consigliere provinciale Moro Tirabassi e dirigente del settore edilizia scolastica Stefania Cattivera, che ha preso in carico tutte le stanze da legare agli atti.